Tra i tanti pronti della guerra, indubbiamente quello più discusso è legato alle energie, alla gestione del gas, perché sì c'è il blocco tra Polonia e Ungheria, c'è il blocco legato alla gestione del traffico delle materie prime per quanto concerne i rubli, un sistema che il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fortemente criticato, ma soprattutto ciò che blocca è la paura che ha una pace e non si arriverà mai, perché in passato Putin ha detto o Crimea e Donbass o niente e il rischio è che possa protarsi il tutto a lungo termine. Esatto, siamo a questo giorno 64 di guerra tra Russia e Ucraina, quindi non si arriva a una pace senza il Donbass e la Crimea e quindi noi oggi parleremo con un esperto che si chiama Ludovico Bianchi. Ciao Ludovico! Ciao ragazzi, buongiorno! Ciao, buongiorno a te! Allora Ludovico, il tema principe di questa puntata è legato per l'appunto alle nuove mosse che la Russia sta intraprendendo per quanto riguarda la gestione del gas, arriva il primo blocco per i paesi che ho annunciato per l'appunto, ma cosa si sta muovendo ancora? Perché qua è una guerra a Ludovico che abbiamo visto cambiare in un momento all'altro, però andiamo per grado, partiamo prima col gas e poi arriviamo alla trasmistria. Allora, quello del gas è stata una mossa da un lato inaspettata, dall'altro inevitabile nell'escalation che sta arrivando nei confronti dell'Occidente dopo tutto quello che si sta facendo per aiutare l'Ucraina. Io al solito tendo a relativizzare per evitare, diciamo, di cadere nei titoloni. Questo è sicuramente un momento importante, ma c'è da dire che non sono questi i grandi importatori di gas russo. Quelli siamo noi, sono i tedeschi principalmente. Fino a qui non arriveranno dei blocchi nei confronti, diciamo, della Germania e dei paesi limitrofintesi come Repubblica Ceca, Slovacchia, eccetera, eccetera, che poi sono, diciamo, un po' le succursali economiche tedesche. Forse quello sarà lo step successivo sicuramente, però non c'è stato ancora la famosa chiusura dei rubinetti. Va inoltre detto che questa è una mossa abbastanza cheap, diciamo, come si dice da un punto di vista per Putin, perché sia la Polonia che la Bulgaria, che sono i due paesi che sono stati, diciamo, sottoposti al blocco, avevano da tempo, diciamo, implementato politiche per ridurre la dipendenza dal gas russo. Possiamo dire che sia stata forse una delle poche politiche lungimiranti del governo polacco, che invece, insomma, sembra essere concentrato molto di più a silenziare l'opposizione e far saltare le teste dei giudici, però effettivamente sotto questo aspetto aveva da 5-6 anni iniziato una politica di derussificazione del sistema energetico che in questo momento potrebbe essere utile. Sì, Ludovico, è cambiata anche la narrazione del conflitto, perché noi, fino a quando ci siamo trovati dal 24 febbraio a narrare la guerra, abbiamo sempre parlato della guerra di annessione, della guerra che restava dal punto di vista militare nel confine ucraino, sia arrivavano armi, sia arrivava una sorta di rifornimento continuo a Kiev, ma adesso c'è un coinvolgimento diretto del lato sud-est con la Transnistria, l'attacco ai depositi di carburante in Russia e un coinvolgimento della Moldavia, che schiera ai confini l'esercito per proteggersi dalle avanzate. Si parla tanto di de-escalation, Ludovico, ma in confidenza a me sembra che quel de-uffisso davanti a escalation ormai sia da dimenticare. Dovremmo narrare una guerra diversa e con quali conseguenze, secondo te? Allora, sicuramente sono tanti punti. Il primo è che la Moldavia è uno Stato che non può, nel senso non è uno Stato in grado di entrare nel conflitto con un peso che possa in qualche modo anche semplicemente moltiplicare o esponenzialmente aumentare il livello della violenza. La Moldavia è uno Stato molto piccolo, schiacciatissimo tra i due blocchi, ancora più dell'Ucraina, con una popolazione, vado a memoria, di una roba come 4 milioni di abitanti di cui uno e mezzo sono all'estero. Quindi, insomma, è veramente uno Stato molto diverso dall'Ucraina, molto diverso da quello a cui siamo abituati quando pensiamo a questi stati est-europei molto nazionalistici, molto popolosi anche e molto russofo. Quindi l'ingresso eventualmente dello scenario a Moldavo non cambierebbe completamente le carte in tavola, anche perché l'esercito Moldavo è pressoché inesistente e le forze russe in transinistria, quindi questa parte a est della Moldavia che da sempre si rifà alla madre Russia, sono esigue. Quindi questo è sicuramente un punto. C'è però tutta, diciamo, una valutazione da fare sulla minoranza russa, che potrebbe essere di nuovo utilizzata da Mosca come casus belli. Si parla di default flag, cioè di operazioni fatte per creare un casus belli da parte, insomma, io non credo che sia nell'interesse dei Moldavi attaccare, diciamo, i rifornimenti russi e le supplies russe in transinistria e quindi mi sembra molto più probabile che sia il Cremlino che fa delle accuse per attaccare. Quello che è lo scenario, poi concludo, della guerra in generale in questo momento è che la Russia si è ritirata da tutte quelle zone che abbiamo detto anche in trasmissione, da Kiev, dal nord, da Kharkiv, eccetera, eccetera, che erano zone molto complicate e si sta ora in queste ore addentrando con una tattica un po' più all'antica, un po' più frontale, con una direttrice da est, il famoso pugno del Donbass, come lo stanno chiamando. Quindi sbaragliare sostanzialmente il fronte ucraino da est con una avanzata che vada in orizzontale sulla mappa, diciamo. È chiaro che secondo molti l'idea è quella di occupare l'esercito ucraino lì e poi dalla Crimea fare il salto e chiudere il Mar Nero, quindi prendere Odessa e arrivare fino in Moldavia o in Moldova, come si dovrebbe dire, chiudendo sostanzialmente il Mar Nero da sud e costruendo questa famosa striscia che vada dal Donbass alla transinistria, riunendo un po' tutte le comunità russe nella zona. Ludovico, grazie. Intanto io però volevo un attimo tornare alla domanda sul gas, perché c'è chi accetta il pagamento ai rubli, mentre l'Italia con Di Maio ha detto che no, noi non accettiamo. E la Russia ha sospeso appunto il finanziamento ai paesi che lui ha definito ostili. L'Italia è un paese ostile alla Russia, quindi questo cosa comporterà? Allora, come dicevo prima, la Russia, nel senso, a meno che non siano arrivate notizie al momento, la Russia ha sospeso. Ludovico è entrato per l'appunto il tema, sta valutando la sospensione, il tema che viene in Italia, sta valutando la sospensione per quanto riguarda il sistema dei paesi ostili, però giustamente Emanuela sottolinea il tema importante, l'ha sospeso per la Polonia e l'Ungheria, che rientrano in questa lista, seppur in maniera laterale. Vai Ludovico. Sì, allora, c'è due differenze da fare. La prima l'ho già fatta, nel senso, il livello di rifornimento che i grossi paesi occidentali prendono dalla Russia costituisce una fetta importante dei loro introiti pubblici e, come sappiamo, gli introiti pubblici sono fondamentali nelle guerre, perché le guerre costano veramente una marea di soldi. Quindi, per quanto si parli e si minacci, prima che si tagli il gas agli europei occidentali, secondo me, personalmente, opinione personale, ne deve passare, perché altrimenti poi a chi lo vendi? Lo vendi magari ai cinesi, però a centesimi sull'euro, come si dice un tempo, nel senso che a quel punto i cinesi hanno una posizione di vantaggio negoziale enorme e allora riescono ad ottenere delle condizioni su questo gas che loro sanno che tu devi vendere, perché altrimenti non funzionano più i lampioni in strada. Quindi, insomma, l'Occidente lo vedo un attimo più difficile. Il secondo punto è che questi paesi qua, sul confine, sono paesi nato contro cui, diciamo, la vendetta russa è tra virgolette più giustificata, nel senso che questi paesi sono stati, diciamo, utilizzati dopo la caduta dell'Unione Sovietica dalla Nato, quindi dagli Stati Uniti, per far avanzare il confine dell'alleanza occidentale. Sono paesi che i russi percepiscono come il cortile di casa loro che gli è stato occupato. Sono paesi che sono fortemente russofobi, fortemente militarizzati e aiutati dalla Nato. La Polonia sta addirittura aiutando individualmente, non come Nato, i paesi, diciamo, l'Ucraina. Quindi, insomma, anche nella percezione, c'è paese ostile e paese ostile, ecco, per dirla in due parole. Questi paesi est-europei, ma legati alla Nato, sono particolarmente ostili alla Russia e quindi la vendetta era qua. In qualche modo, diciamo, ce la si poteva aspettare, perché sono paesi molto ostili, ma che hanno un peso economico nel bilancio di Mosca si può dire sacrificabile, nonostante, insomma, si parli sempre di sacrifici. Io, Ludovico, mi avvicinerei con te ai primi giorni di maggio, perché abbiamo fatto una roadmap insieme. Se noi immaginiamo adesso, come giustamente tu hai detto, il 64esimo giorno di guerra, ci dobbiamo anche proiettare un'altra data, Ludovico, che è quella del 9 maggio. Prima, però, c'è un periodo in base al quale Fitch, Standard & Poor's, notissime agenzie di rating, hanno detto che sarà il momento in cui la Russia raggiungerà la lettera D, la lettera del default, tra il 4 e il 6 maggio. Il 9 maggio, il giorno in cui Putin ha annunciato lateralmente che marcerà, tra virgolette, su Mariupol, nel giorno in cui la Russia celebra la liberazione dal nazifascismo, ma ci arriverà distrutta, dal punto di vista economico. Allora, Ludovico, si può già parlare di una Russia che ha vinto militarmente e che ha perso la sfida economica? Allora, questa è una domanda interessante. Economicamente, sicuramente, sono d'accordo con te. La sfida economica è stata persa perché ci si aspettava un'operazione Lampo e invece anche grazie, diciamo, a mio parere, giocatore fondamentale, l'abbiamo anche già detto qui, a Zelensky e alla sua straordinaria capacità di convincere l'opinione pubblica europea che si stava combattendo per la democrazia e non per l'Ucraina, perché gli europei, quando si sente la parola democrazia, anche giustamente, diciamo, mettono mano al portafoglio, alla fondina, eccetera, eccetera. Se invece si parla unicamente di Ucraina, insomma, dovevo ancora vederlo, uno spagnolo che si inalbera per l'occupazione della Crimea, ecco. Quindi Zelensky è stato fondamentale nel far fare a questo conflitto uno step verso l'alto, diciamo, verso l'ideologia, verso la necessità, la lotta per la democrazia e non verso una lotta per, diciamo, l'affiliazione ideologica alla Nato o alla Russia, che invece sono, diciamo, le coordinate grammaticali con le un po' più realistiche. Però è stato molto bravo, io sono felice personalmente che sia andata così, che l'Europa sia arrivata a percepire questa guerra come per la democrazia. Quindi sul piano economico la Russia ha già perso, è isolata, è ancora più dipendente dalle sue esportazioni di quanto già non lo fosse. La Russia era follemente, era un petrol stato a livello di Oman o Arabia Saudita col gas. Però adesso è ancora peggio. È, diciamo, alla merce dei cinesi che non sono famosi per essere particolarmente, diciamo, pieni di pietà una volta che possono, diciamo, azzuppare soprattutto un nemico storico, perché non dimentichiamoci mai che sul confine mongolo russi e cinesi si sparano da mila. Scusami se ti interrompo, anche verso se stessi, noi abbiamo visto ovviamente la gestione del Covid. Signori, adesso a me piace tanto, Manuela, uscire, togliermi la giacca, la gravatta e parlare apertamente. Qua si parla tanto di dittatura sanitaria, in Italia c'è una dittatura sanitaria, noi siamo sotto regime, ci prorogheranno le mascherine al chiuso, allora vergognatevi tutti. Signori, avete visto le immagini di Shanghai? Di cosa parliamo? Ma lì sono personalmente fuori di te. Lo so, lo dico, scusa però noi andiamo avanti con i temi, vai. Esatto, i casi ci sono comunque aumentati anche oggi, hanno dato le notizie, quindi il Covid non ci sta abbandonando. Anzi, anzi, c'è un aggiornamento. Esatto, c'è un aggiornamento, Ucraina a Kherson dal primo maggio sarà in vigore il rublo. Secondo l'agenzia statale russa, nel sud dell'Ucraina passerà all'uso del rublo la moneta russa dal primo maggio. Il vice presidente dell'amministrazione militare civile della regione ha detto che il passaggio richiederà un periodo di quattro mesi durante il quale saranno in circolazione sia il rublo che la gravnia ucraina. Allora, spieghiamo questo, tanto, no, va benissimo, grazie Manuela per questo ottimo aggiornamento. Spieghiamolo, Kherson è una delle prime città cadute sotto l'egida della Russia, che per l'appunto adesso impone anche la politica economica a Kherson. Noi invece, Ludovico, restiamo su un tema legato a Volodymyr Zelensky e poi usciamo dal conflitto russo-Ucraino. Abbiamo pronto, grazie al lavoro della nostra regia, capitana data da Lorenzo Rocchi, un video molto breve con delle dichiarazioni di Zelensky che guardano al nostro paese. Ludovico, ma quindi il rapporto tra Draghi e Zelensky qual è? Draghi in questo momento sta cercando di utilizzare la situazione al meglio possibile per ergersi a secondo capo di Stato, capo del governo europeo più autorevole. Draghi ha avuto, tra virgolette, la fortuna di intercedere, di arrivare nella fine dell'era Merkel e si trova oggi a contendere a Macron il trono di leader europeo più rappresentativo. È quindi evidente che sulla crisi ucraina lui stia cercando di far arrivare una versione dell'Italia un po' diversa da quella a cui siamo abituati, una versione legata proprio a dinamiche politiche un po' francesi, che non siano unicamente legate all'economia, ma che siano proprio legate all'Italia come Stato difensore della democrazia e della cooperazione internazionale, cercando di promuovere un'idea repubblicana un po' più attiva in politica estera rispetto a quella a cui siamo abituati, più simile a quella parigina.